un paio di nostri carissimi amici hanno avuto una fortuna sfacciata e più non potrei dire guardate cosa hanno trovato fungo settembrino coppia di moretti scopriamo stiliamo guardate la bellezza di questo fungo come vedete la mano non basta a chiudere il gambo meraviglioso è una mezza chilata non di meno altro settembrino altro settembrino buon segno altro settembrino altro meraviglioso fungo settembrino anche questo vedete la mano non mi chiude non chiude quindi anche questo è poco meno di mezzo chilo e poi last partenotiliste ecco il re il re del fungo questo fungo all'incirca è intorno a un chilo una cosa meravigliosa data la penuria tutti stanno chiedendomi ma dove l'avete trovati io dico ma non l'ho trovati io come faccio a sapere dove sono stati trovati ecco questa è la caccia felice la raccolta felice di questo di questi amici circa più o meno sono un paio di chili e mezzo di fungo zoomata voglio far vedere la parte di sotto di questo perché sembrerebbe che non fosse buono è ottimo invece allora la fortuna di questi amici in qualche modo si è riverberata anche su di me perché mi è stato concesso di fare questo video ok Grazie a tutti.